Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, video di oggi per parlare dei capricci, possiamo chiamarli così, un pochettino capricci, da parte di Brozovic, più altre due notizie di calciomercato minori rispetto al tema Brozovic, ma pur sempre da tenere in considerazione. Prima però ragazzi vi ricordo e vi lascio il link nel primo commento che è uscito un nuovo video su Italo Deutsch. Per la prima volta il mio amico Giano ha mangiato l'anguilla, un tedesco assaggia perché è la prima volta l'anguilla. Dove siamo andati a mangiare l'anguilla? Nella patria dell'anguilla, ovvero a Comacchio. Gli sarà piaciuta? Non gli sarà piaciuta? Vi lascio il link nel primo commento. Quando avete finito di vedere questo video, se vi va, andate a vedere anche quello. Allora, intanto ringrazio gli amici dell'Inter Club di Prato per l'invito alla loro cena sociale, accoglienza meravigliosa, siete stati veramente di un'ospitalità unica, grazie anche per aver aderito all'iniziativa che vi ho proposto, avete detto subito sì senza se e senza ma, per fare anche una raccolta fondi per l'allusione che è successa in Emilia-Romagna e per aiutare alla ricostruzione, quindi vi ringrazio veramente tantissimo. È stata una segata meravigliosa che porterò sempre nel cuore. Veniamo a noi, Brozovic! Allora, è da un po' che vi parlo di Brozovic, già da gennaio, e bisogna sempre ritornare da lì, bisogna sempre ripartire da lì. Brozovic a gennaio voleva andare via. Lo sanno? Chi lo deve sapere lo sa, lo sa. Brozovic a gennaio voleva andare via. E ha chiesto la cessione. A Riad c'era stato, dopo la Supercoppa italiana, anche, screzio forse è una parola grossa, però insomma c'erano state delle incomprensioni con la società, perché la società voleva dal Barcellona che sì più soldi. Se fosse fatto uno scambio alla pari sarebbe andato tutto in porto. C'era il sì di che sì, c'era il sì di Brozovic che voleva andare a Barcellona. L'Inter, oltre a che sia, ha chiesto dei soldi, è saltato tutto, la cosa non si è fatta e Brozovic è rimasto un po' infastidito quella volta lì. Adesso cosa succede? Succede che l'Inter ha bisogno di monetizzare, lo sanno tutti, si è venuta a trovare, si è venuta a creare questa opportunità dell'Al Nasr che sta andando un po' per le lunghe. Però dov'è l'incazzatura di Brozovic con la società? Dov'è che Brozovic è risentito? Ancora da prima di Rial. Perché? Perché Brozovic dice Io potevo fare come altri, avevo un sacco di offerte, potevo lasciare andare il cartellino, il mio contratto in scadenza e me ne potevo andare a zero. Dove mi pareva? Guadagnando anche più di ingaggio, perché sapete che una volta che un giocatore va via a zero, tu non paghi il cartellino per convincerlo a venire da te, gli offri più soldi di ingaggio. Un po' come ha fatto l'Inter con Turan. Mi riesce difficile pensare che Turan valga subito 6 milioni e rotte di ingaggio, però non hai pagato il cartellino, si è innescata l'asta, se lo volevi comprare, lo dovevi comprare convincendolo con l'ingaggio. Brozovic poteva fare così. E Brozovic ti dice Io non ti ho lasciato a piedi senza soldi che me ne sono andato senza farti guadagnare un euro dal cartellino come ha fatto qualcun altro senza fare nomi. Ho rinnovato il contratto, poi quando è stato il momento che ti ho chiesto di andare via non mi hai fatto andare via. Adesso che sei venuto a creare l'offerta che tu hai bisogno di soldi sei lì che non dico mi spingi ad andare via però stai mettendo un attimo di fretta e Brozovic fa un pochettino come i bambini col muso che ti dicono va bene, andrò via però vado via dove, come, quando lo dico io visto che quando te l'ho chiesto io non mi hai mandato vado via adesso, dove, come, quando lo dico io quindi sta facendo un po' i capricci sta facendo addirittura ieri so che dalle parti della sede dell'Inter c'era un po' di nervosismo perché addirittura Brozovic aveva chiesto una buona uscita per andare via non so quanto per far arrabbiare la società o non lo so però comunque l'ha chiesta l'ha chiesta l'ha chiesta e vedremo adesso i discorsi con l'Al Nasr sembrano un pochettino ripartiti è una situazione che fa ridere fa ridere perché gente che va da un giocatore e gli offre un triennale da 30 milioni all'anno poi stanno lì a mercanteggiare come si fa quando devi comprare un braccialetto in spiaggia no, ti do 10 no, ti do 7 no, dammi 9 no, ti do 8 cosa dobbiamo comprare? i braccialetti a Rimini dobbiamo comprare in spiaggia a Rimini cioè gente che ti offre 30 milioni all'anno per 3 anni poi dopo ti dice che te ne dà 23 per il cartellino poi scende a 15 quando offri 100 milioni di ingaggio a 1 poi ti fai dei problemi per 5, 7 6 milioni in più o in meno per il cartellino è una cosa che fa abbastanza ridere senza contare che comunque sullo sfondo il Barcellona c'è sempre c'è sempre e sta facendo pensare Brozovic il Barcellona perché comunque quando ti vuole il Barcellona ti vuole una bella squadra ovvio però che il Barcellona non arriva alle cifre di ingaggio dell'Al Nasr inavvicinabili e soprattutto non arriva neanche a offrire quei famosi 23 milioni che chiede l'Inter quindi adesso c'è una situazione un pochettino di stallo stallo che sta fermando un po' anche la questione frattesi questo giocatore ogni giorno che passa costa di più ogni giorno che passa costa di più Carnevali secondo me che dice di essere amico di Marotta secondo me è un po' il famoso dalle mie parti si dice amica 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 e caz perché non lo so ogni volta che vendo un giocatore alla Juve te lo dai in prestito gratuito per i primi due anni poi dopo pagamento rateale in tre quattro anni Locatelli la Juve lo finirà di pagare nel 2000 mai nel 2000 ogni volta che si avvicina un'altra squadra che non è la Juve saldi 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 non lo so vabbè insomma io penso che 25 milioni più mulattieri per un valore totale di circa 35 vadano bene per frattesi perché se frattesi costa 35 non lo so i nostri centrocampisti quanto costano un miliardo e mezzo non lo so veramente sono abbastanza abbastanza abbasito della situazione che si è venuta a creare staremo a vedere qui adesso si innescherà un tire molla sappiamo che il mercato soprattutto negli ultimi anni quando le società da quando le società hanno iniziato a fare questa politica del non rischiare nulla in entrata se non hai venduto possono succedere che tanti colpi di scena come è successo l'anno scorso per Bremer che per mesi e mesi era nostro poi dovevi vendere 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 non caricavi mai il fucile con i soldi l'ha caricato prima la Juventus e l'ha preso la Juventus o come è successo con Dybala che è stato parcheggiato lì non so quanto aspetta 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 io vi dicevo l'anno scorso aspetterà ma non aspetterà fino alla prima giocata di campionato prima o poi si romperà i coglioni e così è stato frattesi potrebbe succedere la stessa cosa comunque frattesi è lì che aspetta l'Inter si è già promesso all'Inter poi qua vediamo se l'Inter non carica il fucile con i soldi arriverà qualcun altro e se lo prenderà prima perché è già successo è già successo quindi comunque se arriva frattesi io ragazzi sono contento ma se non arriva non mi metto ad agare le testate nel muro non mi metto ad agare le testate nel muro le due operazioni secondarie di cui vi volevo parlare sono la prima di Azpiliqueta che pare pare abbia scelto la final Atletico Madrid per tornare a giocare in Spagna nel finale di carriera e perché pare che gli diano anche un pochettino di più di ingaggio stranamente c'entrano i soldi anche qui se fosse venuto secondo me sarebbe stato un bel elemento di esperienza da mettere nella rosa però anche qui se non viene ad agare le testate nel muro l'altra è Sensi Sensi rientrerà all'Inter e non è detto non è detto che non gli possa essere data un'altra possibilità non è detto anche se anche se io penso che se dovesse andare via Brozovic il ruolo di regista dovrebbe farlo in partenza Ciavanoglu ci sarebbe Aslani che dovrebbe dare il cambio a Ciavanoglu un altro regista non lo so ne avremo più o meno tre dopo è vero che l'Inter può giocare anche con il doppio play però si è paventato si è paventato anche che Sensi possa rimanere all'Inter io Sensi è un giocatore che ho sempre apprezzato non fosse stato per i problemi fisici un giocatore che mi è sempre piaciuto quest'anno al Sassuolo al Monza è andato meglio del solito come infortuni ne ha avuto uno importante ma non muscolare che sono sempre stati quelli che l'hanno un po' afflitto in uno scontro di gioco quello può capitare mi ricordo quando sono andato a vedere Inter Monza a San Siro che a un certo punto si è messo la marina qua si è seduto è uscito ho detto madonna via San Siro questo gli porta proprio sfiga gli porta però staremo a vedere non penso che Sensi sia una priorità nel momento in cui tu devi far fare il regista a Cialanoglu e nel momento in cui prima o poi dovrai puntare anche su sto povero povero Aslani se no poveretto non ci punti mai però detto questo Sensi secondo me è un giocatore valido tecnicamente e tatticamente fisicamente così così staremo a vedere anche qui cosa succederà però per quanto riguarda la questione Brozovic non sono sorpreso da tutte queste scaramucce perché per i motivi che vi ho detto all'inizio del video Brozovic è un po' risentito perché Brozovic ha prolungato il contratto poi quando ha chiesto che si facesse questo scambio con Barcellona non è andato in porto perché l'Inter voleva pure dei soldi e lui è rimasto un po' così e adesso che l'Inter un po' lo sta spingendo alla porta anche se ovviamente i nostri dirigenti dicono di noi dicono noi possiamo anche toglierlo dal mercato ma lo sta un po' spingendo alla porta lui è lì che dice calma io la porta la prendo quando lo dico io vado dove dico io e faccio quello che dico io quindi adesso fa un po' il muso sta facendo un pochettino il muso vedremo cosa succederà iscrivetevi al canale youtube clic 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 seguitemi su instagram clic 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 like alla pagina facebook clic 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 e poi come dico sempre fate quel caffè che vi pare ciao ciao